Domanda, si può essere più empatici grazie al ballo? Sì, l'esperienza dimostra che è proprio così. Ora, partiamo da un concetto di base. Allora, l'empatia è un'emozione fondamentale nella nostra vita, ed è così nella nostra vita personale che per la nostra vita professionale. Se tu ad esempio pensi alle persone che conosci, ed un gruppo magari vasto di persone, e pensi ai tuoi amici, pensarò in una cerchia più ristretta, Ora, se tu pensi ai tuoi amici del cuore, alle persone più vicine, beh, saranno un numero, un pugno di persone probabilmente, quel tipo di persone con cui tu o sarebbero i primi che vorresti dire una notizia bellissima, oppure con cui condivideresti delle questioni che possono essere tristi, magari delle cose che comunque condivideresti solo con alcune persone, perché significa aprire il tuo cuore e parlare di cose che ti toccano nel profondo. Allora, immagini queste persone, ecco, sono persone con cui molto probabilmente hai un rapporto di empatia. Che cosa vuol dire? Sono persone che quando ci parli lo sai che ti ascoltano, lo sai che sono attente, lo sai che sei importante per loro, quindi che quello che dici se lo tengono per loro e intanto ti ascoltano, ok? Quindi questa è l'empatia e queste persone ti fanno stare bene perché sai che puoi contare su di loro. Ora, se c'è questo effetto bellissimo che loro fanno su di te, ti immagini se anche tu nel comunicare con le persone riesci a essere empatico, cioè a far sentire a proprio agio le persone, beh, probabilmente le tue relazioni miglioreranno tantissimo. E questo nella tua vita personale, che puoi anche nel business, eh? Anche nel business, sì. Perché, ad esempio, il modello di business, di vendita, è molto cambiato. È molto cambiato. Per esempio, fino agli anni 90, in cui c'erano dei grandi monopoli, beh, la negoziazione era fatta un po' così. C'era da parte del venditore una presentazione e poi c'era la chiusura. La chiusura, il negoziatore faceva leva su tutte strategie mini e cose varie per vendere, per un po' forzare la vendita. Ecco, questo era il vecchio modello. Ora, in seguito c'è stata la liberazione del mercato, per cui ora una persona ha tantissime possibilità davanti a sé. Quindi, se non mi piace più questo prodotto oppure questa compagnia, beh, mi guardo intorno e scelgo un'altra. Quale? Quella di cui mi fido. Quella di cui mi fido. Questo che cosa vuol dire? La fiducia. La fiducia è diventato un concetto essenziale nelle negoziazioni. Quindi, come è cambiato ora il modo di negoziare? Ora è così. Ora è così. Soprattutto, naturalmente, è fatto dai migliori. Quando una persona ha bisogno di acquistare un prodotto, piuttosto che può essere una casa, un'assicurazione, un computer, qualcosa, un buon negoziatore, un buon venditore, quello che farebbe, sarebbe quello di porre delle domande. Cioè, capire di cosa ha bisogno la persona. Non è che si vende uguale per tutti. No, no, magari le persone cercano cose completamente diverse. Quindi, porre delle domande, capire di cosa ha bisogno, che tipo di esperienze sta cercando. Allora, il suo compito sarà quello di offrire delle soluzioni, dei benefici. Quindi, il prodotto è soltanto un mezzo per arrivare a soddisfare questo esigente da parte della persona. Quindi, dopo una buona negoziazione, sono tutti contenti. Perché la persona ha acquistato quello che cercava, ha ottenuto, ha soddisfatto dei bisogni, ottiene dei nuovi benefici, e il negoziatore è contento perché effettivamente ha fatto il suo lavoro e ha reso un ottimo servizio a delle persone. Quindi, insomma, è una negoziazione vincita-vincita. Win-win, dicono in inglese. Bene, allora, la domanda è come si fa per migliorare la propria empatia? Come si fa ad essere più empatici? Bene, partiamo da un'idea, da un dato di fatto. Ed è che ci sono persone che sono già naturalmente più empatiche di altre. Chi sono queste persone? Le donne. Le donne, storicamente e biologicamente, sono più empatiche, sono più predisposte. Io, per sempre, posso dire che per quanto ho letto, studiato, seguito i seminari, imparato da dei coach, eppure, eppure, quando magari guardo mia moglie e il modo in cui interagisce con i nostri figli, io vedo un capolavoro di empatia. Quindi, non ho altro che dire ok. caspita, è imparare da lei. Imparare anche da tante donne, che fortunatamente o è nel mondo del ballo, che lavoriamo insieme, è imparare da loro. Quindi, una prima cosa da fare è imparare dalle donne. Ora, la buona notizia è che anche noi ometti possiamo migliorare, e anche noi possiamo migliorare in questo senso. E una cosa che consiglio a tutti, uomini, donne, perché anche le donne possono migliorare questa potenzialità innata, è quella di imparare a ballare. Sì, perché? Perché nel ballo si crea un rapporto molto particolare, molto speciale, tra l'uomo e la donna. Si crea una certa intesa. Mi spiego. Quando in balli, per esempio, come il tango argentino, la rumba, il valser lento, quindi balli non velocissimi, ma dei balli che ti permettono di metterci in connessione, di ascoltare. C'è l'uomo che ascolta attentamente la donna, la mette in condizione di poterlo seguire. Ok? Quindi lì si crea una certa connessione molto speciale tra i due. E poi, da parte della donna, il fatto che il suo ruolo non è passivo, non è ok, vabbè, mi faccio portare, no, no, deve essere molto attivo, molto di ascolto, per capire bene il cavaliere. Bene? Quindi così, ci sono diversi balli che ti permettono di sviluppare questa capacità. Prima balli un po' più lenti, che poi potrai applicare anche in balli molto più veloci. Questa è un'abilità che ti permetterà di migliorare le tue relazioni, sia personali, che poi appunto di lavoro. E quindi se tu vuoi migliorare in questo senso, vuoi migliorare il modo in cui ti senti con te stesso, il modo in cui ti senti quando comunichi con le persone, beh, ti consiglio di provare a ballare, di provare a gustartelo e vivere questa esperienza. Noi nell'Arthur Murray viviamo questo ogni giorno, vediamo la trasformazione che accade nei nostri allievi e se è qualcosa che vuoi anche tu, beh, devi fare solo una cosa molto semplice, fai il primo passo. Vieni a conoscerci e ti aspettiamo. Spero di vederti presto in pista, perché sappi che la pista da ballo, e sì, è dentro di un salone bellissimo come quello delle nostre scuole, che è anche fuori, quando ti trovi in mezzo ai tuoi amici, alle persone che conosci nella tua vita. Ti mando un grande saluto, ci vediamo presto, ciao!